Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, vi faccio vedere ragazzi una partita proprio già nel vivo, nell'apice massimo. Mi zoomo un po'. Allora, cosa potrei fare? Prendere Acromio significa pescare tantissimo e magari, in qualche modo, trovare lo Snorlax che mi serve tantissimo. E in più, quelle energie che, sinceramente, mi sa che mi servono. Perché adesso Snorlax, quanto c'è di vita? 3,40? Quindi, appaderei per fare una cosa di questo genere. Allora, però, prima metto questa energia. Allora, stadio, ci sta tutta. Allora, però, il retino, in qualche modo... Allora, facciamo così. Allora, con il retino mi prendo Shemin, così provo a pescare. Sto facendo tutto questo ragazzi, perché in questo momento pescare per me è importantissimo. Quindi, adesso pesco così. Vai Shemin. Droppami qualcosa. Male, 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 male. Allora, male, male, male. Allora, male, male fino a un certo punto. Perché? Guardate qui cosa ho. Alice e Anemone. Quindi, potrei tranquillamente usare Alice e andare sul sicuro, senza fare acromio. Però aspetta Sto dicendo una stupidaggine Incredibile Perché usare adesso Alice Meno male che non l'ho fatto Significherebbe Non fare la kill Perché oltre Snorlax Vmax Mi serve anche l'energia Quindi l'unica cosa che posso fare è agromio Esperare, incrociare le vite 10 carte, forza Su 10 carte ci sono anche Le ultra ball Allora l'energia è uscita E Snorlax è uscito ragazzi E' andata Allora che cosa ho fatto Ma che cosa ho fatto Non ci credo Ho sbagliato, ho fatto un errore gravissimo Quello di metterle L'energia a Salamence Quindi Adesso Non posso assegnare L'altra energia Perché purtroppo non c'ho Porygon in Z In campo Quindi Niente In questo turno Mi faccio colpire qualcuno A caso Un Porygon Penso Anzi Che è il Deo Purtroppo Mi devo far colpire Che è il Deo Vai Che è il Deo Fai Assalto E niente Ho fatto un errore gravissimo E quindi adesso Ne pago le conseguenze Semplicemente Che inoltre Non potendo neanche ritirare Non c'ho la pietra lieve Non c'ho gli scambi Non posso fare Granché Però vabbè Vediamo Vediamo un po' Di Prendere un po' di carte Così Allora C'è solo il Porygon C'è solo il Porygon 2 Maledetto Allora Ho un po' paura A scattare queste carte Per andare a prendere Porygon 2 Quindi niente Non faccio niente Basta Ragazzi Ho risultato Mi sono gasato A mille Però ho fatto Un errore gravissimo C'è quello là Di mettere l'energia Salamons Maledetto Maledetto a me Ok Avversario Penso che a questo punto La partita è persa Perché Comunque In diversi turni Vedo difficile Che il mio avversario Non riesca A mettermi giù Cioè Non lo so Al turno successivo Può facilmente farmi Tirarmi dentro qualcuno Dei miei E in questo modo Farmi la kill Avevo la vittoria in pugno L'unica cosa Che posso fare E magari Provare con n A metterlo in difficoltà Allora lui adesso Mi attaccherà Quindi Mi attaccherà Quello di e Mi attaccherà Snorlax Se mi attacca Snorlax Vado ancora di più In difficoltà Perché se Se mi fa No Saldatrice Meno male Saldatrice Allora bene Allora lui adesso In questo turno Mi fa Saldatrice Si carica qualcuno Dietro Io gli faccio Snorlax Allora io Entro con Snorlax Ho uccito Snorlax Su Wmax Dopodiché Metto qualcuno Dei miei in panchina Un altro di questi In panchina Che c'è in mano E poi Cosa posso fare N Farò N Solo per indebolirgli La mano Successivamente Perché Devo assolutamente Indebolirgli La mano Non voglio Che pesca Non lo so C'ha troppe carte in mano Ne ha pescato i due adesso Non è difficile Che abbia Ecco qua Guzmala Allora Guzmala In questo momento Non mi serve Allora Non ripetiamo Gli stessi errori Metto questo qua In campo Metto questo qua In campo Adesso Gli faccio la Kill Il problema È che lui Ha troppe carte in mano Io Non posso neanche Più di Più di tanto Scartare Allora Sì Vabbè Qualcosa La scarto Dai Qualcosa La scarto Scarto Guzma E L'ultra ball Mi spiace un po' Scattare L'ultra ball Però sì Scarto Queste due carte Voglio sfoltire Un po' Il mio deck Sicuramente Dopo questa kill Vediamo un po' La partita Non lo so Come si mette Si vedrà tutto Nel suo turno Perché se lui In qualche modo Riesce A trovare Il modo Di mettermi qualcuno Dentro E farmi la kill Io ho perso Quindi vediamo un po' Però su due carte Lui adesso avrà in mano Solo due carte Quindi Non è facile Che riesca Vediamo un po' Allora io in più C'è anche Il cerca sfide Per dopo Quindi perfetto Giga caduta 3.40 Ragazzi 3.40 Sono felicissimo Di aver fatto Finalmente Questo attacco Un attacco Da 3.40 Vediamo cosa c'è Nei premi Vorrei un po' Riconzeta Grazie mille Non c'è Un bel po' Riconzeta Niente Caramelle Ma il po' Riconzeta Nei premi Che mi serviva tantissimo Anche se ormai La partita è quella che è Vediamo Con chi esce fuori Esce fuori A mille Sperando di Trovare qualche carta Allora adesso vedremo Fabbro Fabbro Ragazzi È andata È vinta È vinta Nonostante l'errore Che ho fatto prima Ho vinto Comunque Sono felicissimo di questo Niente Il Fabbro Può premettesti le due energie Non mi cambia niente Può farmi anche l'attacco Non ha in alcun modo La possibilità Di evitare La kill Che gli farò I tre premi Che prenderò Ero in netto svantaggio Però adesso Invece Sono riuscito Quindi È la prima volta Che utilizzo Snorlax Vmax Facendo I 360 danni E i 340 danni E questi danni Mi sono Anche utili Faccio due colpi E ho vinto la partita Semplicissimo Non ho neanche dovuto usare Porygon Adesso non ricordo neanche Il suo Vabbè Il suo attacco GX Se non sbaglio Faceva ricaricare le energie Quindi nulla di che Sì Metti lì Cioè 2,10 No Quando mi togli 2,30 Niente di che Benissimo ragazzi Mi basterà Mettergli l'energia E fare nuovamente Giga caduta Per la bellezza Di 360 danni Va bene ragazzi Qui da me È tutto Vediamo cosa c'era Nei premi Ecco l'Ide Porygon Va bene ragazzi Ho vinto Sono veramente contento Di aver fatto bene Quelle mosse Là alla fine Per recuperare Un mio errore grave Però alla fine La partita L'ho portata a casa Mi raccomando Iscrivetevi Commentate Mettete like Condividete Con i vostri amici Che giocano a Pokemon E ci vediamo al prossimo video Scherzavo Apro dei bauli Dai 4 bauli 1 Questi li ho vinti Nello scala sfide Così Ce li ho Secondo baule Niente Pattinatrice Completamente inutile Ce l'ho già Ovviamente Nel deck Di Empoleon Vai Andiamo avanti 3 Chi è Costa anche Inutile E l'ultima Non vorrei sbagliarmi Ragazzi Sì E l'ultima Ma è che cavolo Nessuna carta Nemmeno rara Cioè Assurdo Va bene ragazzi Sono arrivati 10 minuti Ho finito il video E rinnovo Quello che ho detto prima Ma senza ridirvelo Al prossimo video